Presentata una proposta di legge in Parlamento, sottoscritta da maggioranza e opposizione per promuovere e sviluppare il turismo motoristico nel nostro paese. La proposta, presentata da Partito Democratico e Fratelli d'Italia, nata all'interno dell'intergruppo parlamentare Amici dei Motori, è nata grazie alla collaborazione con l'Automobile Club Italia e l'Associazione Città dei Motori, che raggruppa 39 comuni particolarmente rappresentativi del settore motoristico. Fanno parte dell'Associazione anche Faenza e Lugo e ovviamente Imola. La proposta di legge intende certificare l'importanza del turismo motoristico per l'Italia, valorizzando i vari territori. L'intergruppo parlamentare in sostanza chiede l'istituzione di una consulta nazionale per il turismo motoristico per coordinare e indirizzare le politiche del settore. La creazione di un fondo destinato a supportare economicamente progetti e iniziative legate al turismo motoristico, la promozione internazionale di una settimana dedicata proprio alle realtà che animano i vari comuni per attirare turisti, la creazione di una certificazione rinominata Bandiera Scacchi per riconoscere i comuni in grado di attirare turisti nazionali e internazionali grazie alle loro offerte, la definizione di un calendario nazionale degli eventi motoristici a cura del Ministero del Turismo per coordinare e promuovere gli eventi su tutto il territorio nazionale. Particolarmente interessate alle due proposte di legge sono le due città ravennati, oltre ovviamente a tutta la Motor Valley regionale. Faenza è l'unica città al mondo ad ospitare due team impegnati nelle massime competizioni sportive e motoristiche, il team Gresini e la Visa Cash App, il nuovo nome dell'Alfa Tauri, l'extro rosso nato da vent'anni di storia della Minardi in Formula 1. Da anni ormai Faenza e Brisichella condividono il Trofeo Bandini, premio molto apprezzato in Formula 1. A Faenza sta sorgendo il nuovo centro federale di motociclismo a Monte Corali sotto la guida di Andrea Dovizioso. In città è stato creato il raggruppamento composto da istituzioni, centri di ricerca, istituti scientifici nazionali e tutte le realtà produttive del territorio che si occupano di produzione e lavorazione dei materiali composti, carbonio e ceramica. Sono diverse d'altronde le aziende del territorio a produrre per importanti case automobilistiche e motoristiche. Era infine iniziato negli anni scorsi il progetto della Motor Arena, il centro turistico a fianco dell'autostrada all'interno del nuovo Faenza Shopping Center, andato però ad arenarsi insieme alla ripresa dei lavori del grande centro commerciale. Lugo può contare invece sul Museo Francesco Baracca, dedicato all'eroe dell'area, allestito a partire dal 1990, e sul grande monumento dello scultore Domenico Rambelli. Oltre a Baracca è nativo di Lugo anche Fabio Taglioni, ingegnere e progettista della Ducati, ideatore del primo motore con sistema desmotromico per moto.